Grazie Presidente, io con questi tre atti di indirizzo ovviamente che riguardano la materia che seguo da vicino che è la mobilità che tra l'altro è stata citata anche durante la discussione generale, durante l'intervento delle varie associazioni e comitati che sono intervenuti che comunque ringrazio. Diciamo che con questi atti ho voluto portare un pochino di concretezza, sono tre atti che riguardano tre interventi in diverse scale temporali, c'è un intervento che può, anzi dovrebbe partire subito, c'è un intervento che potrebbe partire nel medio periodo e poi l'ultimo ordine del giorno invece riguarda un'operazione un pochino più di ampio respiro. Vado con ordine, per quanto riguarda il primo ordine del giorno c'è un progetto che è stato promosso dalla mia commissione, dalla commissione che ho l'onore di presiedere, che è quello del corridoio della mobilità sudiale Marconi. Andremo a realizzare una sede riservata per l'autobus e in futuro per il tram, andremo a razionalizzare la sosta, a mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti stradali. Pensi, Presidente, che solamente portando ordine a Viale Marconi si potrebbe migliorare la velocità commerciale degli autobus del 50%, significherebbe quindi aumentare, sarebbe come aumentare il numero degli autobus circolanti, semplicemente però facendo viaggiare in maniera più veloce quelli esistenti. Purtroppo quest'opera che è finanziata, che è stata approvata con un progetto esecutivo, che è stata anche bandita a una gara per la realizzazione, purtroppo questo importante intervento è fermo per un ricorso al TAR. Con questo atto di indirizzo chiedo all'assessore di impegnarsi congiuntamente con i nostri uffici, il Dipartimento Mobilità e l'Avvocatura, soprattutto per trovare una soluzione bonaria, che è che sarebbe alla portata, lo abbiamo esaminato anche in una mia recente commissione qualche settimana fa, così da superare questo ostacolo del ricorso al TAR e far partire questo intervento. Parliamo di circa 4 milioni e mezzo di euro, quindi una cifra importante messa a bilancio già nel lontano 2018, che però non riesce a sbloccarsi. Sarebbe un intervento concreto che potrebbe partire subito e che porterebbe dei benefici fondamentali per la mobilità della nostra città, perché andrebbe a ridimensionare lo strapotere del mezzo privato e a rendere più efficiente il trasporto pubblico e a dare anche una sede riservata per chi volesse utilizzare la bicicletta. Il mio secondo ordine del giorno invece è una scala temporale un po' migliore, un po' più ampia, ma anche qui è un progetto concreto che potremmo portare avanti anche in tempi abbastanza rapidi, parlo del tram TVA, del tram Termini Vaticano Aurelio. Questo progetto che risale alla fine degli anni 90, fu promosso all'epoca dall'assessore alla mobilità dell'allora giunta Rutelli, però purtroppo dal 2000 al 2001 il loro progetto definitivo giaceva nei cassetti di Roma Capitale. Io mi sono preso la briga insieme alla mia commissione di aprire questo cassetto, di far rimergere questo progetto per un'infrastruttura fondamentale come un tram, quindi un'infrastruttura molto efficiente e performante che andrebbe ad attraversare il cuore della nostra città. Dicevo, mi sono preso la briga di tirar fuori dal cassetto questo progetto, aggiornarlo ovviamente, in vent'anni sono cambiate anche alcune norme e diversi codici degli appalti, aggiornare questo progetto che chiaramente poi è stato svolto dai nostri ottimi tecnici del Dipartimento di Roma Servizi per la mobilità. E questo lavoro di aggiornamento che abbiamo tra l'altro costantemente monitorato nella mia commissione sta dando dei frutti importanti. Ho avuto modo di sbirciare il lavoro che sarà consegnato a breve al Ministero per l'ottenimento dei finanziamenti. è venuto fuori un lavoro veramente eccezionale, un'occasione straordinaria di riqualificazione della nostra città, oltre che di realizzazione di infrastruttura performante per il trasporto pubblico. Andremo a sostituire decine e decine di autobus su gomma con una infrastruttura come un tram. In questo ordine del giorno, chiaramente Presidente, vista l'importanza di quest'opera, poi non mi voglio dilungare, chiunque si può leggere le premesse dell'atto che ho presentato, riteniamo che quest'opera è fondamentale, che debba essere realizzata entro il giubileo del 2025, quindi in questo atto di indirizzo andiamo un pochino a rafforzare una posizione che so che l'assessore della mobilità sta già portando avanti, che è quella di ottenere un finanziamento diretto dal Ministero per quest'opera, parliamo di circa 200 persone. 150 milioni e soprattutto un iter per la realizzazione dei poteri speciali per poter realizzare quest'opera con dei tempi un pochino più certi e meno impossibili, proprio per arrivare ad averla su strada, preferibilmente per il giubileo del 2025. Ultimo atto di indirizzo invece che ho presentato ha una portata molto più ampia, si era citato anche all'inizio di questa seduta, il discorso del Recovery Fund, uno dei pilastri, chiaramente il Recovery Fund è quello cosiddetto verde, quindi che tocca anche la mobilità sostenibile, Roma, tra l'altro Roma Capitale, ha presentato diversi progetti a fine agosto, a una ora di giunta, io con questo atto cerco di dare un messaggio, cerchiamo di dare un messaggio ancora più importante di sistema. C'è un piano urbano per la mobilità sostenibile che è stato adottato dalla nostra aula lo scorso anno, sono una serie di interventi per quanto riguarda la mobilità pubblica, la messa in sicurezza della nostra città, le isole ambientali, la logistica urbana, insomma un piano a 360 gradi che non è squisitamente trasportistico, che è pronto. Tanti progetti sono pronti, molti si stanno realizzando ed approfondendo, tanti studi sono stati fatti anche insieme alle università. Quello che chiedo con questo atto è presentare appunto una visione organica e chiedere di finanziare l'intero PUMS con i fondi che il nostro Paese ha ottenuto per il Recovery Fund. Probabilmente è una richiesta un pochino ambiziosa che però mira a sottolineare l'importanza di questo piano, lo voglio ricordare anche qui, condivido i meriti con i nostri tecnici e probabilmente siamo stati la prima grande città italiana a presentare un PUMS ad approvarlo con un processo partecipativo e soprattutto rispettando le ultime linee guida nazionali e dell'Unione Europea. Termino qui Presidente, grazie per il tempo extra, però forse è stato più utile illustrare tutti gli atti con un unico intervento. Grazie.